e bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi andiamo a vedere come si fa a fare il reso su amazon e non soltanto per quanto riguarda la politica dei 14 giorni anzi quella dei 30 giorni su amazon per qualsiasi motivazione no cioè se cambiate idea se decidete che non volevate comprare quello se inadeguato se non funziona se avete addirittura trovato un prezzo migliore ma andiamo a vedere anche come si fa il reso una volta superato questo termine di 30 giorni che fa scomparire quel tasto che vedrete su miei ordini effettua il reso quel tasto scompare quindi andiamo a vedere come si fa a fare reso una volta passato questo termine e se sei nuovo mi raccomando iscriviti al canale attiva la campanella delle notifiche così non ti perdi i miei prossimi video e lasciami un like per un sostegno totalmente gratuito e buona visione prima di tutto andiamo a vedere come si fa a fare il reso quello semplice quello entro i 30 giorni il prodotto che devo andare a restituire è questo qui sono delle lampadine della osram è un acquisto sbagliato ho sbagliato l'attacco delle lampadine è un h4 invece dovevo prendere delle s2 per la mia moto che ho già acquistato sempre su amazon quindi ho già provveduto a sostituirlo adesso dovevo andare a fare il reso per cui andiamo a vedere semplicemente come si fa quindi ci spostiamo qua sullo schermo ve lo metto sulla videata come si fa bisogna andare su resi ordini cioè bisogna andare prima sul sito di amazon ma questo è scontato poi andiamo su resi e ordini e qua mi fa vedere gli ordini che ho effettuato voglio andare a effettuare il reso delle lampadine e quindi vado a fare restituisci o sostituisci articolo in questo caso seleziono qua l'articolo che è questo una motivazione la motivazione ce ne sono tantissime l'installazione eccessiva iscrizione sul sito non accurata acquisto per errore miglior prezzo disponibile prestazioni qualità non adeguate incompatibile inadeguato articolo danneggiato confezione esterna intatta articolo arrivato in ritardo e c'è anche ad esempio ricevuto articolo averrato e anche non ordinato io quello che dovrei quello che potrei fare è scegliere il prodotto incompatibile o inadeguato nel caso in cui io abbia scelto il prodotto che fosse stato descritto come funzionale come funzionante per quel tipo di prodotto come compatibile in questo caso non indicava si è compatibile col tuo attacco ma diceva è un h4 quindi vedi tu quindi la cosa che andrò a scegliere io è acquistato per errore la motivazione che andate a scegliere va ad impattare anche sui costi che ci sono sul reso nel senso che se voi andate prendere il non adeguato incompatibile vuol dire che il prodotto non è stato diciamo all'altezza delle tue aspettative di come l'ha descritto il fornitore per cui avrai un reso completo anche la spedizione sarà completamente gratuita nel caso in cui fai acquistato per errore o altri tu dovrai pagare ovviamente il ritiro da parte del corriere ed è giusto così quindi in questo caso puoi andare ad iscrivere il problema noi non lo facciamo perché non necessitiamo sappiamo di aver sbagliato facciamo continua di solito ci sono vari tipi di rimborso in questo caso possiamo effettuare soltanto il rimborso sul nostro account amazon come funziona funziona che loro appena ricevono l'articolo anzi non sempre a volte lo fanno anche prima di aver ricevuto un articolo ci fanno un riborso sul saldo di amazon che possiamo poi andare ad utilizzare nei prossimi acquisti ci va a scalare l'importo da pagare con l'importo che abbiamo a disposizione facciamo continua e qua ci sono diverse opzioni cioè porta il tuo pacco presso il service point dhl più vicino porta il tuo pacco presso il ufficio postale oppure richiede un ritiro a domicilio col corriere sda o dhl express io quello che voglio andare a fare è andare a portarlo in un dhl point perché ce l'ho qua vicino in questo caso scelgo il service point faccio conferma l'indirizzo di reso e in questo caso c'è un riassunto di quello che sta per succedere mi stanno per fare un riborso di 19 euro 52 meno 4 euro di spedizione che sono a mio carico perché viene un corriere a prendere il mio pacco per cui io faccio continua e mi rimborsano 15 euro adesso dovrebbe arrivarvi in poco tempo un email che vi dice che è stato accettato il tipo di reso scelto ma la cosa che magari potrebbe essere interessante per alcune persone che magari hanno continuato a guardare questo video è come andare a effettuare un reso su un prodotto che ha superato i 30 giorni dalla data di acquisto io ad esempio ho questo smart box che qua dietro che si è rotto praticamente ho questo questa rotellina qua che non gira più si è spaccata dietro e non mi permette di abbassare di alzare l'asta ecco caduto ed è questo è una cosa e non funziona comunque in modo corretto come dovrebbe ora andiamo a vedere come si fa questo tipo di reso quindi vado nei miei resi e cerco il prodotto soft box oppure lo vado a cercare più o meno nel periodo in cui l'ho acquistato eccolo qua l'ho acquistato il 22 ottobre del 2019 quello che devo fare è andare a fare su dettagli dell'ordine perché mi serve il numero dell'ordine e lo vado a copiare che poi dovrò andarlo a comunicare all'assistenza per poter andare a contattare l'assistenza andiamo a scrivere semplicemente contattaci e viene fuori un reggiseno no andiamo su contattaci di nuovo e qua praticamente ci fa vedere l'ultimo prodotto che abbiamo acquistato e che tipo di domande dobbiamo fare all'assistenza sendo comunque un prodotto che è stato acquistato qualche mese fa difficilmente riuscirei a trovarlo in modo semplice veloce per cui vado a selezionare seleziona un ordine e vado a copiare l'ordine che ho ricevuto prima ovvio che se voi avete effettuato tre ordini nel corso degli ultimi tre anni potete anche correre tra gli ordini che vi fa vedere qui l'ordine che ho fatto è questo dopodiché devo andare a decidere che tipo di problema ho con questo prodotto e devo fare resi e rimborsi perché la cosa che vorrei è o la sostituzione di questo prodotto con uno nuovo di entrambi softbox va benissimo anche uno solo o anche solo l'asta dipende quello che mi propongono o va bene anche un rimborso completo o parziale così posso andare a comprare un altro paio di softbox per cui andiamo su resi e rimborsi poi le cose che abbiamo qua da scegliere sono restituire un articolo controllare stato del rimborso rimborso errato e controllare stato dell'arreso noi faremo restituire un articolo dopodiché possiamo effettuare diverse cose possiamo fare per email per telefono con l'attesa di neanche un minuto oppure chat è la cosa più comoda più veloce che vi consiglio di fare una volta che abbiamo avviato la chat andiamo a scrivere che tipo di problema abbiamo salve avrei bisogno di assistenza con questo ordine e li scrivo direttamente ciao sono Bartuomistech perché se non io lo scrivo dopo mi chiedono ciao con chi sto parlando e dopo dovrei dire ciao sono Bartuomistech quindi sono Stetch e facciamo inizio a chat e io richiedo sempre una trascrizione di questa chat così se ho dei dubbi posso riguardarlo ed ecco qua che siamo in chat con un dipendente di Amazon si chiama Matteo e gli andiamo a spiegare il motivo e la problematica che abbiamo avuto perché tanto ce la sta chiedendo ciao ho dei problemi con il softbox come indicato si è rotta la rotellina che serve per modificare l'altezza del softbox stesso e non riesco più ad usarlo per fare i miei video ragazzi spostiamo la videocamera e bella bella si potrebbe richiedere una sostituzione del prodotto stesso intanto gli chiedo certo che possiamo darci del tu intanto gli chiedo se posso restituirlo e ricevere in cambio lo stesso prodotto e se non si può se non ce l'hanno in magazzino gli chiederò se si può effettuare un riborso o di solito ve lo propongono a voi così andrò subito ad acquistare un altro paio comunque raga voi non potete capire ma c'è un caldo assurdo in questa stanza e non posso nemmeno accendere la ventola perché se no non sentite niente anzi sentite per cui apprezzate lo sforzo sto per svenire praticamente gentilissimo un attimo che controllo cioè mi dice che sono gentilissimo perché gli ho detto che possiamo darci del tu ma è ovvio che possiamo darci del tu anzi adesso mi segui anche sul mio canale youtube ce li scrivo Matteo iscriviti al mio canale gentilissimo un attimo che controllo qual è questo prodotto esatto gli dico anche mi viene scritto hai acquistato questo articolo l'ultima volta il 22 ottobre del 2019 questo non è necessario perché loro sanno benissimo cosa hai acquistato e che a volte ti fanno una domanda aggiuntiva nel caso in cui voi quel giorno abbiate magari acquistato anche un altro prodotto io avevo comprato qualcos'altro che cos'era nello stesso ordine io avevo acquistato anche il tre piede leggero estendibile fino a un metro cinquantadue con custodia che è quello che sto utilizzando adesso in questo video quindi magari non voleva sbagliarsi e farmi un reso su tutto quanto a volte ragazzi succede anche che ci sono degli articoli che valgono talmente poco che vi dicono va bene se non funziona fa niente tienilo e ti facciamo anche un reso questo mi è successo nel caso di un cavo usb che è arrivato che non funziona e quindi non mi serve comunque anzi funziona soltanto come ricarica ma non trasferisce i dati e me l'hanno fatto tenere e mi hanno anche dato dei soldi indietro l'altra cosa che era successo è che durante il covid non ce n'è covid qui praticamente avevo dei problemi con un sd non funzionava più ho richiesto il reso e mi hanno detto tranquillo tieniti questa scheda ti facciamo il reso ti diamo i soldi indietro e acquistane un'altra probabilmente perché avevano paura della situazione stessa non possiamo sostituirlo ma possiamo rimborsarti e ne compri un altro non è nostro è venduto da terzi cosa succede se loro non ce l'hanno nel magazzino se non c'è scritto venduto da amazon vuol dire che e loro quel prodotto ce l'hanno in magazzino ve lo mandano ma non necessariamente ne hanno degli altri ipotesi per cui loro dico non ne abbiamo più oppure non è nostro se voi ti diamo i soldi indietro ne compri un altro io dico sì per me va bene però ci perdo 10 euro praticamente perché l'avevo pagato 56 euro l'anno scorso e se adesso lo vado a ricomprare perché lo andrò a ricomprare o questo un altro mi costa 64 euro vabbè aspettiamo raga sto sudando alex accendi ventola ah nel frattempo che matteo risponde ci rinfreschiamo un attimo ok ti mando un corriere o porti il pacco le poste no no mi va benissimo il corriere a casa grazie e lì dico il mio indirizzo di casa ovviamente non ve lo faccio vedere matteo c'è caldo tanto fa caldo matteo muoviti per favore rimborso il rimborso lo facciamo su buono regalo va bene voi ovviamente potete farvi i cazzi vostri potete farvi rimborsare sul metodo di pagamento che avete utilizzato oppure su un buono regalo tanto se acquistate su amazon va benissimo anche il buono regalo lo ricevete anche prima c'è chi se ne frega se acquistate sempre qua i soldi vi servono comunque va bene sul buono l'unica cosa che dico che non ho mai aspettato così tanto nella chat per farmi diciamo fare il rimborso non è che lo faccio spesso però c'è qualcosa che rento oggi ok mi ha risposto ti ho mandato per email etichetta di reso il corriere ti contatterà in 48 ore per il ritiro dopo 24 ore del ritiro verrà messo rimborso posso fare altro per te no grazie buona serata seriata facciamo termine a chat adesso vedremo che i nostri due prodotti sono stati messi come stato di reso infatti qua la lampadina dice reso avviato se cerco softbox dettagli dell'ordine reso avviato per cui abbiamo finito e ragazzi avete visto è stata una cosa molto molto semplice mi raccomando non sfruttatelo come adesso li frego tutti compro tutti i prodotti che voglio ogni mese cambio il telefono no che poi aspetta voi di decidere se farlo o meno io ve lo chiedo poi fate voi se avete invece dei problemi avete bisogno di una sostituzione di un'assistenza che comunque avete la garanzia di uno o due anni fatelo se avete non so una batteria che è smesso di funzionare va benissimo un telefono che non telefono un qualcosa che non va non perché un per un vostro sfizio dopo un anno avete cambiato idea va bene ragazzi se il video è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche così non vi perdete i miei prossimi video lasciatemi un like così potete sostenere il canale in modo totalmente gratuito e scrivetemi qua sotto se vi sono capitate delle cose strane se vi hanno detto che non potevate più fare il reso oppure come me vi hanno fatto il reso ma vi hanno fatto tenere il prodotto vi hanno inviato non so un prodotto diverso da quello che avete ordinato mi raccomando fatemelo sapere qua sotto che sono curioso e seguitemi in tutti i miei social soprattutto su instagram che sono molto attivo vi lascio il link qua sotto così potete farlo in maniera molto veloce e grazie ancora per aver guardato questo video e ci vediamo nel prossimo video